Allora, salve a tutti, siamo alla quarta partita di questa giornata. Abbiamo Terracciano che ha perso contro Giliberti 2-7. Iniziamo a presentarvi. Napolano Raffaele, Rania Davide, Carluccio Antonio, Stefano Nidi, Francesco Marriale, Stefano Curci. Ok, allora iniziamo dai vincitori. Allora, chi è il capitano? Non ci sta. Tu chi sei? Napolano Raffaele. Cosa pensi di questa partita? Chi dedichi il tuo gol? È stata una bella partita, diciamo che è il primo tempo molto equilibrato. Il secondo abbiamo cambiato un po' formazione, però ce la siamo cavata, dai. Dedico il mio gol a Davide Rania, che mi ha lasciato il rigore. Ok, allora poi De Carluccio chi è? A chi le dedichi tre gol? Tutti quanti alla squadra, perché abbiamo formato una squadra quest'anno dove non è che siamo fortissimi, ma siamo una squadra compatta, giochiamo insieme e questo è troppo bello. Ok, allora poi Bagnale, Miranda, tu a chi dedichi? Tu a chi dedichi il gol? Io dedico il mio gol all'amichevole Miranda. Cosa pensi della partita? È stata una bella partita, diciamo che comunque come diceva lui la squadra abbia fatto per divertirci, però se ci va bene proviamo a vincere la Magri. Tu vuoi dire qualcosa? Il mio gol lo dedico a Katia, è stata una bella partita e speriamo di andare molto avanti. Tu cosa vuoi dire? Un errore a me quando segnavo una volante. Allora poi voi, secondo voi cosa avete sbagliato in questa partita? Allora abbiamo sbagliato un po' l'approccio, comunque alcune azioni potevamo migliorare, i contrasti eccetera eccetera, però siamo molto migliorati rispetto alla partita precedente. Ce la siamo giocata, il primo tempo è stato equilibrato, abbiamo fatto azioni d'attacco, abbiamo sferato più di due gol effettivi e quindi è andata meglio dell'altra volta. Hai fatto qualche gol? No, però ho giocato in ruolo a centrocampo molto meglio di come gioco in attacco. Bravo, curti e variale non ci sono? A chi dedichi il gol? A tutta la squadra, perché comunque ha permesso il miglioramento in questa partita e anche il mio gol. Quindi è soddisfatto del tuo gol? Sì, del gol sì, però si può migliorare la prestazione generale diciamo. Cosa pensi a chi dedichi il gol? No, non sono io il variale in questo momento. Ah, è un altro variale? Il guardo variale. Vabbè, secondo te a chi lo può dedicare il tuo fratello, visto che non c'è? Il fratello è più grande. Eh, appunto, il fratello è più grande, perché io l'ho portato in squadra, quindi... Cosa pensi della partita? Eh, allora, bisogna vedere due punti. Io rispetto alla precedente, quindi c'è un netto miglioramento, però ci si è ancora tanto da migliorare, specialmente durante il secondo tempo, perché abbiamo dei cali e perdiamo la concentrazione. Pensi che vi rifarete alle prossime partite? Speriamo. Certamente, certamente. Un po' di ottimismo, vai. Allora io penso insieme, ciao Maverick, salutate. Ciao Maverick, alla prossima.